Ben ritrovati a Mattina Live, il piacere della lettura di oggi ci introduce attraverso un viaggio nella mente umana alla scoperta di segreti della nostra psiche ma anche delle cause di alcuni crimini dell'umanità commessi nel tempo. Tutto questo lo ritroviamo all'interno di Lo sciamano e i misteri della mente, l'ultima opera dello scrittore Ercole Cacciapuoti che è qui con noi in studio per presentarci questa sua lodevole opera. Buongiorno, grazie Ercole per essere qui con noi. Ecco il Salvatore Mondoi, nostro regista, mette in rimanda l'immagine della prima di copertina, Lo sciamano e i misteri della mente, un viaggio nella profondità dell'animo umano. Cosa dobbiamo aspettarci? Sì, questo romanzo è in realtà un veicolo dove io volevo parlare di nozioni sciamaniche, di poteri della mente che tutti noi abbiamo però sono latenti, nascosti, non ci facciamo caso e non abbiamo nemmeno consapevolezza di tutto il potere che noi tutti uomini possediamo. Ad avere questi poteri è il protagonista del tuo romanzo, Leonardo, che attraverso un ponte tra verità parallele entra in contatto con realtà nascoste, realtà che hanno un solo fine, ovvero quello di aiutare gli altri. Sì, in questo caso Leonardo è un civile che aiuta la polizia a risolvere casi, casi più disparati. Infatti si parla di casi cronache, cose successe in Italia anni fa. Un po' cronache, un po' scomode, si parla di navi a perdere, quindi navi riempite con scorie nucleari che venivano affondate nei mari del Mediterraneo e si parla, quindi si rimanga il caso di Graria Alpi, la giornalista uccisa in Monza Bigo nel 1995. Quindi si parla anche di altri crimini, ci sono alcune persone che lavoravano in Gladio, sappiamo tutti che Gladio era quell'organizzazione paramilitare voluta dagli americani, dalla CIA, dopo la fine della seconda guerra mondiale. Quindi all'inizio con la guerra fredda c'è stata questa guerra sotto banco tra Russia e America e Gladio faceva parte di questa organizzazione e lavorava in Italia, faceva cose scomode, squallide in Italia. Ecco, parlare dei crimini commessi nel tempo, i crimini dell'umanità, per appunto commessi alcuni dei quali sono citati nei libri, ci permette di rivelare anche il potere mentale ed extrasensoriale che la nostra mente ha, ma probabilmente poco sappiamo, non riusciamo probabilmente a riconoscerlo. Sì, in realtà il protagonista ha questi poteri da piccolo, lo zio che lavora nel mistero degli interni, si fa uso di lui per i suoi poteri, per risolvere una vicenda successa nell'82 in realtà, quando le Brigade Rosse rapinarono un generale, il generale Dozer, il generale della Nato e grazie anche all'epoca si seppe che alcuni sensitivi che lavoravano per la CIA riuscirono a capire dove stava, in una città del nord Italia, dove stava nascorso in appattamento questo generale e lì poi fu liberato. E quindi da questa storia nasce tutta l'aiuto che appunto Leonardo dà per risolvere nuovi casi che capitano, nuove cose, nuovi accadimenti. E lui con questo potere della mente, con queste sensazioni sviluppate, cerca di capire la realtà, quello che è nascosto all'interno, quello che c'è all'apparenza. Lui riesce a scoprire queste cose, dà una mano agli inquirenti per risolvere i casi e per risolvere i problemi. Sì, però ecco, come si collegano questi temi sui segreti che la nostra mente in sé detiene? Come si collegano? In realtà si parla anche di fisica quantistica, nel senso che lo sciamano Leonardo comprende che lui è appassionato anche di nuove scoperte, di intangimento quantistico anche, e riesce a vedere la realtà per come veramente è e non per come sembra o per come ci appare. Lui quindi riesce a capire che tutte le sensazioni che gli arrivano sono delle emanazioni energetiche di situazioni, oppure entra in contatto con una persona e riesce a capire se dice la verità o no, perché riesce a capire al di là di quello che vede, proprio le sensazioni che avverte, e in questo caso riesce a dirigere gli inquirenti verso nuove... Riesce ecco ad aiutare gli inquirenti verso alcuni scenari totalmente inediti, insomma un romanzo che a tratti è anche un thriller che permette di scavare nel profondo del nostro animo, quindi scoprendo quelli che sono i segreti della nostra mente, ma attraverso proprio la nostra mente permette di svelare quei segreti inediti, no? Dei crimini che sono stati commetti nell'umanità. Come deve approcciare il lettore? Che sguardo deve avere il lettore? Ma il lettore deve avere uno sguardo molto aperto perché si parla di tantissime cose, lui fa anche dei giochetti psicologici, fa dei ritmi magici, cose molto particolari, riesce ad influire anche le persone solo guardandoli al centro della mente, con la sua forza emotiva, forza pensiera. Come il terzo occhio? Come il terzo occhio, esatto, infatti si parla anche del terzo occhio, quindi guarda al centro della mente, riesce a convincere le persone eppure riesce a capire nella profondità, nell'animo, cosa veramente hanno e cosa stanno nascondendo in questo caso. Beh, è davvero molto affascinante, esortiamo il nostro pubblico a non perdersi questo piacere di leggere Lo sciamano e i misteri della mente, l'ultima opera dello scrittore Ercole Cacciapuoti che oggi ci ha presentato e ci ha raccontato in maniera inedita alcuni tratti che noi naturalmente, leggendo, andremo a scoprire attraverso un vero e proprio disvelamento. Grazie, grazie davvero. Grazie a voi, grazie. E complimenti. Dieci secondi, torniamo a Mattina Live. Grazie. Grazie.